salve a tutti ragazzi io sono squall e bentornati su rise of kingdom e questa volta questo bentornati è detto con un po di tristezza poiché dalla schermata potete vedere che non stiamo benissimo siamo stati attaccati dai cinesi ci hanno distrutto malissimo è arrivata gente con oltre 7 milioni ad attaccarci e ci hanno attaccato la nostra fortezza sono riusciti ad arrivare nella nostra fortezza hanno confinato con noi e adesso attualmente la situazione è parecchio grave la nostra fortezza sta praticamente prendendo fuoco e tutto ciò comporterà la distruzione di questa alleanza ma non temete perché ne andremo a creare una nuova andremo a creare un nuovo account rifare il jump adesso lo faremo insieme andremo a creare questo nuovo account nel nuovo server ma è un vero peccato perché eravamo riusciti ad espanderci parecchio cioè eravamo arrivati fin qua sotto stavamo attaccando perché appunto questi qua che si chiamano xemp per riuscire a prendere anche le loro risorse ma si sono alleati con le truppe cinesi che stanno da queste parti e hanno davvero un botto di potere di fatti questo livello 24 che ieri era entrato a far parte dell'alleanza xemp è ritornato nella sua alleanza d'origine ovvero quella cinese e il suo potere ammonta praticamente a 7 milioni capite bene che i miei 400.000 non possono assolutamente leggere uno che ha 7 milioni e ce ne stavano altri altri da un milione e mezzo 3 milioni insomma ci hanno attaccato in massa i cinesi e ci hanno distrutto e qualche giorno fa sempre i cinesi immagino sempre le stesse persone ci avevano attaccato nei villaggi e a me avevano fatto un danno parecchio elevato avevo perso all'incirca 70 mila truppe praticamente mi avevano rimezzato l'esercito il che è stata una bella botta attualmente io mi ritrovo con 35 mil unità all'ospedale in poche parole sono rimasto senza truppe cosa faremo adesso beh molto semplice iniziamo con il distruggere la nostra attuale alleanza ebbene sì dobbiamo mantenere il tag quindi andiamo sulla nostra alleanza e la distruggiamo e una volta fatto ciò ci basterà andare a creare un nuovo account nel server 1360 quindi andiamo su impostazioni gestione personaggio crea un nuovo account e allora ragazzi come sempre il tutorial è concluso adesso devo solamente raccattare abbastanza gemme per poter creare l'alleanza nel frattempo ritiro tutte le ricompense che ci stanno perché quando si va ad effettuare un gemme danno effettivamente un botto di ricompense e adesso vediamo di accumulare abbastanza gemme per fare il tutto segheria iniziamo a costruire una segheria iniziamo anche magari a potenziare sto municipio perché dobbiamo essere veloci in questo caso voglio essere veloce non vanno utilizzati i velocizzatori ma questo qua lo userò come secondo account quindi non è affatto un problema e ho bisogno delle gemme quindi andiamo a velocizzare un po il tutto allora c'è stato un piccolo cambiamento di era età del bronzo e non so se effettivamente già quale età del bronzo mi danno delle gemme non ricordo quando mi danno delle gemme spero che me le diano il prima possibile onestamente nel frattempo dovrei vedere se effettivamente ci stanno altre ricompense da ritirare ok dai adesso abbiamo ottenuto abbastanza gemme per poter creare la nostra alleanza quindi crea e sì scusa posso creare la mia alleanza grazie mille come sempre ragazzi tag seed nome garden seed e attualmente l'annuncio è stiamo effettuando un jump unitevi crea alleanza ok dai l'alleanza è stata creata beh qua ci andrà a dire le solite cose già possiamo reclutare qualcuno già qualcuno ci ha fatto richiesta non sono impostazioni stavo a dire ma ma perché questa cosa ok ragazzi il nostro obiettivo attuale è quello di portare tutto il nostro villaggio a livello 7 e non oltre mi raccomando non portare il municipio a livello 8 se no non ci potrete seguire nel nuovo server altra cosa che dobbiamo fare è quella di andare in mappa andare su esplorazione e raccattare tutte le ricompense che ci stanno nei villaggi tribali e nelle caverne tipo qua ci sta un villaggio tribale andiamo qua e raccattiamo una mappa del regno mappa del regno che ci servirà più avanti qua ci sta ad esempio una caverna quindi andiamo ad investigare anche su questa caverna insomma per il momento dobbiamo semplicemente fare questo e poco prima dello scadere del tempo del teletrasporto del principiante abbiamo praticamente 10 giorni di tempo possiamo farmare in questa mappa per 10 giorni cambieremo server andremo in un nuovo server appena creato e cercheremo questa volta di stabilirci sperando di non trovare altri vicini che ci attacchino malamente nel sonno beh ragazzi io direi che per questo video per questo episodio possa anche essere tutto so che magari è uscito molto più corto rispetto agli altri ma era giusto per farvi un aggiornamento e per farvi capire dove siamo e che cosa vogliamo fare adesso invito tutti voi ragazzi ad unirvi a questa alleanza vi basterà per l'appunto creare un nuovo account nel server 1360 e poi cercarci con il tag seed e seguire le istruzioni che ci saranno scritte al posto di stiamo effettuando un jump unitevi per il momento c'è scritto questo adesso lo andrò a modificare andrò a inserire un paio di regole un paio di cose da seguire per poter effettuare il jump insieme a noi qualora non siate esperti per l'appunto del jump e detto ciò ragazzi vi invito anche a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto lasciare like commentare condividere il video attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione e noi ci rivediamo a un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti